Provare a entrare nella testa di Putin. Diceva la donatella di Cesare prima lo vogliono far passare per pazzo, gli hanno fatto le perizie psichiatriche per capire se è malato, se sta fuori di testa, vive isolato e il Covid lo ha cambiato. Putin è in sé, Putin è in charge, come si dice, è al comando. Putin è supportato dai suoi o è un uomo solo e sta perdendo lucidità? Che idea ti sei fatta della parabola di Putin, del Putin che oggi è al comando? Ok, se la domanda Putin ha lanciato questa guerra perché è impazzito la risposta è no, nel senso c'è una lucidità anche in come viene condotta questa guerra c'è una parola che secondo me forse è più appropriata se vogliamo tentare di entrare in questo luogo. Avvicinati il microfono un po' perché hai un problema su quel microfono D'accordo, allora c'è una parola che ritengo più appropriata per cercare di guardare dentro la testa di Putin che in questo momento è un luogo non semplice da decifrare e neanche bello da abitare ma questa parola è ossessione ossessione non vuol dire follia vuol dire un'idea pervasiva che non se ne va che prende a un certo punto il sopravvento anche su tante altre cose e l'ossessione di Putin è diventata nel ventennio insomma di cui è al potere l'idea e la convinzione progressivamente sempre più profonda che l'Occidente, gli Stati Uniti per mano della Nato volessero, vogliano ridurre la Russia a una non potenza fondamentalmente a quello che la Russia non può essere che la Russia è geneticamente un impero e se non conta poi comincia a perdere pezzi come era successo cominciava a succedere dopo la fine dell'Unione Sovietica quindi questa ossessione si è ampliata negli ultimi dieci anni da quando è tornato nel 2011-2012 al Cremlino in mezzo alle proteste e si è giunto un altro pezzo di questa convinzione che nei piani dell'Occidente ci fosse anche quello di sposestarlo insomma di organizzare una rivoluzione colorata anche a Mosca poi è vero che c'è stata una parabola una trasfigurazione troppo comunque un cambiamento anche nella personalità e più che personalità nella leadership di Putin Putin è diventato via via meno accessibile ma come dire quello che ho detto fino adesso è collegato a questo attorniato da un gruppo dirigente che probabilmente anche insomma gli dice un po' le cose che si vuole sentir dire o quello che loro vogliono che lui senta dire il Covid, la pandemia ha fatto un ultimo pezzetto perché che Putin abbia paura del virus mi sembra questa immagine è impressionante Orietta è l'immagine di un uomo di un uomo solo e comunque probabilmente ossessionato dal Covid ossessionato da un attentato da essere in qualche maniera colpito oppure semplicemente che vuole esasperare il suo senso di autorità e di inaccessibilità in qualche maniera diciamo c'è una scenografia del potere che forse a questo punto è dato il punto che siamo arrivati ha anche la sua funzionalità io credo sinceramente insomma ho avuto modo di sondare un pochino la cosa credo che abbia paura del virus forse per questioni di altre sue deficit insomma di salute ha qualche problema che probabilmente lo rende più vulnerabile lo rende più vulnerabile? sì allora una... cioè non è vaccinato? può darsi che non sia vaccinato può darsi che il vaccino in certe condizioni quando tu assumi altri farmaci poi non ha l'efficacia allora un'ultima domanda